Sono 13.316.379 i cittadini che domani, domenica 5 giugno, si recheranno nei seggi elettorali aperti dalle 7 alle 23 per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali e per l'elezione dei consigli circoscrizionali in tutta Italia. In Campania si vota per il rinnovo dei consigli comunali di quattro capoluoghi, Napoli, Benevento, Caserta e Salerno. Lo scrutino dei voti inizierà dalle 23 di domani, domenica 5 giugno, subito dopo la conclusione delle operazioni di voto e l'accertamento del numero dei votanti. L'eventuale turno di ballottaggio si svolgerà domenica 19 giugno, sempre dalle 7 alle 23. I dati sull'affluenza alle urne relative alle 12, 19 e 23, i risultati saranno consultabili da chiunque anche attraverso il sito www.interno.gov.it e http2.slash.elezioni.interno.gov.it. Per il rinnovo del consiglio comunale è possibile operare il voto disgiunto, votare cioè per il candidato sindaco e per una lista o massimo due consiglieri di genere diverso di una lista non collegati. A rinnovo delle municipalità al contrario non è possibile operare il voto disgiunto.